allora buongiorno volevo chiederle che emozioni è ho saputo che lei ha seguito tutta la trafila per l'assegnazione di questa struttura per il completamento l'allestimento quindi volevo chiederle che emozioni è finalmente essere all'interno di quella che sarà la vostra nuova casa almeno per i prossimi dieci mesi è una grande soddisfazione perché da questa estate che abbiamo lavorato veramente in maniera dura alla realizzazione al completamento diciamo di questo di questo impianto insieme al comune il primo sopralluogo di agosto vuol dire la scoraggiante però la situazione qui era ancora abbastanza complicata come ovviamente è stato ricordato più volte oggi durante la durante la conferenza e il lavoro del comune è incomiabile perché quello che è stato realizzato in questi tre mesi è veramente notevole sotto gli occhi di tutti i presenti oggi di chi ha partecipato a questa questa bella cerimonia di inaugurazione e dal canto nostro come il comune giustamente ha ricordato noi abbiamo messo a disposizione tutte le nostre risorse per poter allestire la parte di campo degli spogliatoi omologare il campo ovviamente è un qualcosa di molto molto pressante viste i nostri impegni e siamo contenti oggi finalmente ai 17 di poter disputare questa questa prima partita prima di una lunga serie ecco vi aspettate tanti tifosi al seguito e noi dobbiamo aspettarci a guidone un'invasione invasione non è il termine non è il termine esatto noi finché abbiamo giocato a roma abbiamo avuto grossi riscontri di pubblico e già oggi insomma con i primi i primi cittadini abbiamo visto che c'è molto interesse rispetto all'euro basket e rispetto anche a effettivamente al campionato comunque di caratura estremamente alta che è la serie 2 nazionale di pallacanestro quindi prendiamo parte ormai da sei anni perciò mi aspetto che da roma finalmente il pubblico possa tornare a supportarci e che da guidonia ci possa essere una bella affluenza dovuta insomma a un intrattenimento notevole perché parliamo veramente di un campionato dove ci sono grosse squadre e dove il livello è molto alto e molto competitivo quali sono i punti di forza di questa struttura per una società come la vostra noi eravamo in cerca di una struttura che potesse avere la capienza adeguata per per poter disputare il campionato e che potesse essere un buon connubio tra la vicinanza a roma e un impianto fruibile per quelle che sono le nostre le nostre esigenze perciò questa questo impianto veramente un gioiellino poterlo vedere finalmente così penso che sia un grande orgoglio per per la giunta per il sindaco e per tutti quelli che si sono spesi questo impianto ci consente ovviamente di poterlo arredare e allestire facendolo sentire veramente la casa dell'Eurobasket già oggi insomma se si guarda il campo si sente già calore e vi ripeto chi è venuto ad agosto a settembre a vederlo sicuramente oggi avrà un bel avrà un bel impatto avere calore qui sul campo poi ovviamente deve essere riscontrato dagli spalti se riusciremo a fare una buona affluenza di pubblico e secondo me già oggi troveremo buoni numeri diventerà veramente complicato venire a sfidare l'Eurobasket qui quindi questo sarà il vostro fortino diciamo? noi ovviamente ce lo auguriamo è ovvio che l'impianto si presta perché ha la capienza adatta non è né troppo grande né troppo piccolo contiene esattamente insomma quella porzione di pubblico che ci aspettiamo e che nel momento in cui si appassionerà e si appassionerà la squadra sicuramente farà sentire il suo supporto l'ultimo davvero poi chiudo le chiedo il vostro è un progetto a lungo termine qui a Guidonia? sì noi abbiamo iniziato qui da quest'estate e anzi avremmo voluto entrare ben prima del 27-28 di novembre però delle vicissitudini giustamente legate insomma a tutto quello che ha comportato questa struttura hanno allungato un pochettino i tempi noi ci saremo quest'anno fino alla fine della stagione sportiva e compatibilmente insomma con il bando che uscirà la nostra intenzione è quella di rimanere qui perché come avete visto in poco tempo già l'abbiamo arredato per quella che è di nostra competenza come se fosse il nostro fortino perciò non vorremmo essere di passaggio vorremmo riuscire a rimanere qui il più lungo possibile grazie mille, grazie davvero